Quarta lezione di scienze naturali, modulo geografia astronomica per i licei. In questa lezione parlerò del sole, quindi vedremo la sua struttura interna, il nucleo, la zona radioattiva, la zona convettiva e tutti gli elementi della superficie, tra cui anche le macchie solari, e quindi parleremo anche della sua attività che si sviluppa nell'arco di 11 anni. Cominciamo. Questa è la struttura del sole. Abbiamo un nucleo, una zona radioattiva, una zona convettiva e altri elementi in superficie. Cominciamo dal nucleo. All'interno del nucleo, che si trova a 15 milioni di gradi, abbiamo le reazioni di fusione nucleare. Quindi la combustione che tiene acceso il sole avviene solamente dentro il nucleo. Tutto quello che vediamo intorno è solamente gas molto caldo, ma non sta bruciando. La combustione avviene all'interno. Intorno al nucleo abbiamo una zona radioattiva, definita così perché l'energia prodotta nel nucleo attraversa questa zona per radiazione. Mentre, intorno alla zona radioattiva, abbiamo invece una zona convettiva, in cui praticamente la pressione diminuisce, e anche la temperatura diminuisce, e il calore prodotto dal nucleo, invece di attraversare la zona come quella precedente, solamente per il raggiamento, abbiamo dei modi convettivi, in cui il plasma molto caldo alla base di questa zona raccoglie il calore da quella sottostante, si espande, sale verso l'alto, lo cede all'esterno e poi ricade. Si muovono dei modi convettivi, quindi in questa zona il sole sta letteralmente ribollendo. Nella zona superficiale invece poi abbiamo la fotosfera. Che cos'è la fotosfera? È la parte più superficiale del sole, da dove parte la luce, infatti si chiama così foto perché è da lì che vediamo la luce che emette il sole, e sarebbe praticamente il punto più basso dell'atmosfera solare. Vedremo poi durante questa lezione in dettaglio gli altri elementi, come le macchie solari, le protuberanze, la cromosfera, l'eliosfera e le varie spiccole che ci sono in superficie, anche i brillamenti. Andiamo avanti. Come funziona il sole? Durante la sua vita la stella attraversa una fase di grande stabilità, chiamata sequenza principale. In questa sequenza principale la gravità del sole che tende a comprimere la stella è in equilibrio con la forza nucleare interna che tende ad espandola. Quindi c'è questo equilibrio. Finché abbiamo abbastanza idrogeno all'interno che con una reazione nucleare riesce a mantenere questo equilibrio, va tutto bene. Com'è la reazione nucleare che tiene acceso il sole? Abbiamo quattro atomi di idrogeno che si legano a formare un atomo di elio, rilasciando energia sotto forma di raggi gamma e neutrino. Finché c'è idrogeno, queste due forze sono in equilibrio e abbiamo la fase principale della stella. Abbiamo già visto nella lezione precedente cosa succede a una stella quando l'idrogeno all'interno finisce. Quindi il sole rimane acceso grazie a questo e è stato calcolato che ha ancora abbastanza combustibile per rimanere acceso in questa sequenza principale per altri 5 miliardi di anni. Quindi non dobbiamo preoccuparci se a breve si spingerà. Adesso però parliamo delle attività solari. I fenomeni in superficie riflettono quello che avviene al suo interno. Macchie solari, eruzioni solari e flare sono interazioni tra il campo magnetico e i flussi energetici che arrivano dall'interno della stella. Qui vediamo una macchia solare ingrandita in animazione, qui vediamo un flare. La forma di questi arc è due dal fatto che il campo magnetico, che ha questa forma, solleva ad alta quota il plasma, che è un gas ionizzato. E quindi praticamente vediamo intorno al sole tutte queste strutture di gas sospeso ad alta quota dal campo magnetico della stella. Poi abbiamo invece le eruzioni solari molto forti. Qui vediamo quanto sono grandi le eruzioni solari che possono lanciare nel sistema solare, raffiche di plasma anche a 800 km al secondo. Questo è un disco che copre il sole perché la corona solare, che sarebbe l'atmosfera del sole, è un milione di volte meno luminosa della stella stessa. Quindi per vederla dobbiamo oscurare la stella con un filtro. E poi qui vediamo i brillamenti con la conseguenza di questo lancio nello spazio di questo plasma. Ovviamente, come vedete, è a forma di arco perché è il campo magnetico del sole che solleva questo plasma e lo lancia nello spazio. Infatti questi archi sono archi magnetici. Il campo magnetico è invisibile, però noi vediamo il materiale che riesce a sollevare. Parliamo della fotosfera, la parte superficiale del sole da cui parte la luce. Quindi si chiama foto perché la parte luminosa, foto vuol dire luce in latino. Quindi lo strato superficiale del sole appare granulare perché è costituito da enormi bolle di plasma che risalgono dagli stati sottostanti. Quindi, come vedete, queste figure granulari sono gigantesche bolle di plasma, a volte grandi anche quanto la Terra, che sono due al fatto che il plasma sta ribollendo. Vi ricordo che la combustione avviene solamente nel nucleo. Tutte le attività che vediamo in superficie sono dovute al plasma che sta bollendo, non sta bruciando. In alcuni punti il campo magnetico è particolarmente potente, creando un buco nella fotosfera, mostrandoci gli strati più freddi sottostanti. Gli strati più freddi appaiono meno luminosi. Quindi, se io osservo il sole con un filtro, vedrò la fotosfera luminosa e le macchie solari delle zone scure. Posso vederlo in animazione. Vedete che ci sono delle zone veramente scure, le zone di penombra e poi la superficie solare. Ovviamente la temperatura scende man mano che si va verso l'interno della macchia solare. Questo buco nella fotosfera è dovuto a una particolare concentrazione del campo magnetico in questo punto. Possiamo vedere l'animazione dei movimenti globulari di questa zona granulare. Vedete questi giganteschi boli di plasma che ribollono, salgono dalla profondità a queste zone cade e poi, cedendo il calore esterno, ridiscendono. Sono dei moti convettivi di fatto. Vediamo le temperature. Abbiamo 5800 gradi Kelvin sulla superficie, 4000 gradi Kelvin dentro le macchie solari perché la temperatura si era fredda e se volessi confrontare la Terra con queste strutture, ecco la Terra messa a confronto o con una macchia solare o le zone canonari. Quindi in realtà sono strutture veramente molto grandi. Andiamo avanti e vediamo invece la cromosfera. La cromosfera è lo strato di gas sottile che avvolge il Sole. È uno strato dell'atmosfera solare. Spesso raggiunge un'altezza di poche migliaia di chilometri e costituisce lo strato più freddo dell'atmosfera solare. All'interno di questo strato avvengono le eruzioni solari e possiamo vedere le spiccole, queste fiammate qui che vedete molto piccole. Le spiccole sono un getto dinamico di circa 500 o 1000 km di diametro sulla superficie del Sole che si muove alla velocità di circa 20 o 50 km al secondo dalla fotosfera. Possono raggiungere un'altezza di 15.000 km. Quindi la loro altezza supera il diametro della Terra, quindi sono molto grandi. Poi abbiamo invece questi anelli di plasma. praticamente il campo magnetico del Sole ha sollevato del plasma e lo mantiene in sospensione. Sul Sole la gravità è 28 volte superiore a quella della Terra, quindi questo che è un gas cade molto velocemente sulla superficie dandoci l'impressione che abbia una consistenza fluida. In realtà è un gas. Vediamo qui la Terra a confronto con queste strutture che ci sono sulla superficie, quindi sono molto grandi. Ci potrebbe passare la Terra sotto questo arco. Una protuberanza solare è un enorme e luminoso oggetto di plasma solare che partendo dalla cromosfera si estende nella zona della corona solare allontanandosi per migliaia di chilometri spinto dalle forze del campo magnetico del Sole. È quello che ho detto adesso praticamente. Andiamo avanti e vediamo invece la parte più esterna dell'atmosfera solare che è la corona. La corona è la parte più esterna e rarefatta dell'atmosfera solare. È possibile vederla dalla Terra durante le eclissi solari perché è un milione di volte meno luminosa del Sole stesso. Quindi quando sulla Terra abbiamo le eclissi e la Luna ci copre il Sole è possibile vedere l'atmosfera solare. Qui vediamo proprio le linee di forza del campo magnetico che modellano il plasma sollevato da questo campo magnetico e espanso tutto intorno. La corona è un involucro di gas ionizzati, ovvero gas molto caldi che hanno perso gli elettroni e quindi risentono i campi magnetici. E qui vediamo come risente il campo magnetico del Sole perché prende la forma del campo magnetico solare e le correnti di particelle che sfuggono dalla sua superficie costituiscono il vento solare. Inoltre, oltre a questo, abbiamo anche billamenti, ovvero sono delle gigantesche esplosioni nel Sole che emettono grandi quantità di luce. Qui vediamo raggi X perché la loro emissione massima è nei raggi X. Quindi i billamenti coincidono quando le linee di forza del campo magnetico si scontrano e generano questi potenti scontri di plasma sulla superficie. Ma tutta questa esplosione e questa attività solare genera il vento solare, ovvero un flusso costante di particelle cariche, quindi di plasma, che da Sole spazza tutto il sistema solare. E questo è una raffigurazione. Vediamo il Sole con i suoi campi magnetici che lanciano questi plasma nello spazio e questo vento solare è costituito da queste particelle di plasma ionizzato che invadono tutto il sistema solare e colpiscono anche i pianeti. Per fortuna la Terra ha un potente campo magnetico che lo protegge dal vento solare. Però non tutti i pianeti hanno questa fortuna. Infatti, quando il Sole emette un'orazione solare, la rotazione solare crea questo effetto elicoidale per cui questa nube di plasma si muove come un'elica per tutto il sistema solare e colpisce i pianeti. Quando colpisce i pianeti, può soffiare via una parte della loro atmosfera e farla disperdere nello spazio. Ovviamente, chi ha un campo magnetico molto potente come la Terra, riesce a proteggere l'atmosfera molto bene. Quindi, anche se noi comunque perdiamo aria e acqua nello spazio, il campo magnetico, anche durante le raffiche più forti, riesce a proteggere gran parte della nostra atmosfera. E dopo 4 miliardi e mezzo di anni, la Terra ancora possiede un'atmosfera molto densa e degli oceani e quindi è ancora un ambiente idoneo alla vita. Chi invece non ha avuto la stessa fortuna della Terra è stato Marte. Marte è molto più piccola della Terra, ha avuto un campo magnetico in passato, perché in passato, come la Terra oggi, aveva un nucleo di ferro fuso e i nuclei di ferro fusi nei pianeti sono le sorgenti dei campi magnetici, quando Marte, essendo più piccolo della Terra, si è raffreddato prima e il suo nucleo di ferro si è congelato, ha smesso di avere un campo magnetico. Questo è successo miliardi di anni fa e quindi oggi Marte non ha più l'atmosfera che aveva in un anno passato, perché una volta presso il campo magnetico il vento solare, nei milioni di anni, ha disperso nello spazio la sua atmosfera e la sua acqua. Sono state scoperte prove che una volta su Marte c'erano oceani di acqua e laghi e fiumi che scorrevano e probabilmente anche un'atmosfera ricca di ossigeno, però oggi è tutto perduto perché senza campo magnetico quest'atmosfera e quest'acqua sono stati erosi dal vento solare in milioni di anni. Però questo flusso non è sempre costante, come vedete ci sono periodi tranquilli e periodi potenti. Queste sono le tempeste solari. Durante le forti attività solari le eruzioni solari aumentano la loro intensità e aumenta anche l'intensità del vento solare e anche la Terra può essere investita e subire delle conseguenze da questi eventi solari. La vita è sempre sopravvissuta perché il nostro campo magnetico è molto potente e quindi anche durante gli eventi molto estremi anche se il campo magnetico viene fortemente deformato comunque riesce a proteggere l'atmosfera. Però ci sono due piccoli buchi a nord e a sud di questo campo magnetico che permettono alle particelle sole di colpire l'atmosfera terrestre. E quando questo avviene abbiamo dei fenomeni sull'atmosfera. Qui vediamo alcuni esempi in cui il vento solare deforma il campo magnetico e genera delle vere e proprie tempeste radioattive ad alta quota. E vediamo che quello che può succedere sulla Terra sono tempeste magnetiche che possono sovraccaricare i circuiti o bruciare i circuiti dei satelliti. Ovviamente è già successo in passato, ci sono stati diversi blackout nel passato dovuti a tempeste solari molto potenti, diversi satelliti sono stati persi per questo motivo. Oggi si tende a costruire rete elettriche schermate e a spengere i satelliti quando vediamo che c'è una tempesta solare in arrivo. Però c'è sempre l'opportunità che se c'è un evento estremo molto potente ci possono comunque essere dei danni. Quindi il rischio danni zero ancora non esiste. Andando avanti, vediamo che cosa succede all'atmosfera terrestre quando una parte di queste particelle colpisce l'atmosfera terrestre. Abbiamo le aurore, quindi durante le raffiche molto potenti una piccola parte di queste particelle può attraversare il campo magnetico e colpire l'atmosfera, ionizzare i gas dell'atmosfera e quando questi ionizzano emettono luce. Quando colpisce l'ossigeno, per esempio, c'è questa luce verde. Questa è l'Australia, questa è l'Antarca e vediamo questa aurora australe nell'emisfero sud. Oggi possiamo vederle anche da fuori dall'atmosfera perché abbiamo la stazione spaziale che gira intorno alla Terra ogni 90 minuti e passa spesso sopra le zone polari e ci dà queste bellissime immagini in cui è possibile vedere le aurore polari dallo spazio e vedete che colpiscono le strade più alti dell'atmosfera. Mentre dalla Terra, sono sempre state viste in questo modo, è possibile vedere queste aurore boreali durante le notti delle zone nordiche, quindi in Siberia, in Canada, in Islandia, in Nord Europa o in Antatide, dove praticamente il campo magnetico permette al vento solare di raggiungere l'atmosfera. Oggi ci sono queste foto bellissime con le luci delle città e sullo sfondo le aurore boreali. Quindi vedete che sono degli spettacoli. Per fortuna il danno che provocano l'atmosfera è molto minimo. L'atmosfera distrutta durante questi eventi viene recuperata e riciclata dai gas vulcanici che i vulcani proprio rimettono in atmosfera e quindi dopo miliardi di anni siamo ancora qui perché il pianeta riesce a reggere a questi attacchi solari. Ma l'attività solare in realtà è molto regolare e segue un ciclo, un ciclo di 11 anni. Nel giro di poco più di un decennio il Sole passa da un periodo di attività minima visibile dal numero ridotto delle macchie solari e brillamenti che sperimenta invece quando c'è un massimo. Infatti il Sole è stato uno degli astri più studiati nella storia dell'astronomia e ci sono già oggi 400 anni di rilevamenti. Cosa facevano gli antichi astronomi? Semplicemente andavano a osservare la quantità di macchie solari sulla superficie. Quando erano basse l'attività solare era bassa quando erano molte l'attività solare era alta. E qui abbiamo un grafico che mette in relazione queste macchie solari con eventi climatici terrestri. E c'è stato un periodo molto freddo nel 1800 in concomitanza di una serie di attività solari molto basse. Adesso lo vediamo meglio. Però vedete che i dati raccolti in tutti questi anni ci fanno capire benissimo come si comporta la nostra stella. Qui vediamo un Sole durante l'attività di massimo solare con tante macchie solari e qui vediamo il Sole con poche macchie solari durante un minimo solare. Però ogni due minimi solari praticamente abbiamo che il campo magnetico è invertito. Quindi in realtà il ciclo completo si completa in 22 anni. Cioè dopo 22 anni cioè dopo due cicli solari completi il campo magnetico torna della polarizzazione come era prima. E qui vediamo praticamente la relazione tra le osservazioni di radiazione solare misurata dalla superficie tra le macchie solari e ovviamente con i fleri solari. Quindi durante i periodi di grande attività solare l'irraggiamento che arriva sulla Terra è più forte. Quando invece ci sono i minimi solari l'irraggiamento invece sulla Terra è minimo. E questa cosa è interessante perché è stato scoperto un periodo di minimo solare chiamato Mounder Minimum tra 1600 e 1750 in cui c'è un periodo di 40 anni molto freddo e oggi abbiamo cronache e documenti da tutta Europa che c'è stato un periodo molto freddo qui vediamo alcuni quadri di venti in quell'epoca che ritraggono i grandi fiumi europei totalmente congelati in inverno dove la gente addirittura ci faceva le fiere sopra. Quindi in realtà c'è stata una miniera glaciale tra 1600 e 1750 con un periodo veramente di minimo di 40 anni tra i 1660 e 1700 chiamato proprio Mounder Minimum e documentato in tutto il mondo. Qui vediamo come appare il sole quando c'è una grande attività solare vediamo tante attività di flare e di brillamenti solari con in corrispondenza le macchie solari e qui invece vediamo il sole in un periodo tranquillo in cui praticamente non ci sono brillamenti o flare o eruzioni particolari. Con questo ho finito anche la quarta lezione dedicata al sole. Nella prossima lezione parlerò della via lattia perché il sole fa parte di un sistema molto più grande costituito da altri 300 miliardi di stelle che insieme a lui ruotano intorno a un buco nero supermassiccio al centro di questo grande oggetto che chiamiamo galassia. La nostra galassia si chiama via lattia perché i nostri antichi quando la guardavano nel cielo vedevano questa striscia bianca nel cielo molto luminosa chiamandola via lattia cioè via del latte perché in una mitologia greca era un fiume di latte che usciva dal sino di una dea però ovviamente la realtà è molto diversa e la vedremo nella prossima lezione. Potete trovare questa lezione e tutto il corso per licee di Scienze per la Terra sul mio canale YouTube e sul mie pagine Instagram e Facebook Prof Antonio Loiacono. Grazie.